Sono passati 29 anni da quella notte del maggio 1993. Dietro la strage di via dei Giorgofili e dietro a quel fiorino carico di Tritolo, c'era la mafia. Questa l'unica certezza. Tanti invece i tasselli ancora da aggiungere per avere un quadro chiaro della verità. L'ultima clamorosa evoluzione dell'inchiesta fiorentina riguarda il coinvolgimento nella fase esecutiva degli attentati di soggetti esterni alla mafia. In questa direzione si inserisce anche l'ultimo sviluppo investigativo. Rosa Belotti, da Albano Sant'Alessandro, Bergamo, 56 anni, sarebbe, secondo i PM fiorentini, la bionda che un passante notò per la sua avvenenza, scendere da una Fiat 1 parcheggiata in via Palestro. Poco dopo, in quel 27 luglio 1993, Milano pianse cinque morti causati proprio da un'autobomba. Due mesi prima, una donna era stata notata pochi minuti prima dell'esplosione in via dei Giorgofili. La Belotti, interrogata dopo essere stata perquisita nel marzo scorso, ha negato ogni suo coinvolgimento, sia a Milano che a Firenze, ma ha ammesso che è effettivamente lei in una foto che venne trovata in un misterioso arsenale in una villa di Alcamo. La ricerca della verità non deve cessare quando ancora ci sono cose da chiarire e fatti da accertare. E tuttora sono in corso indagini da parte della Procura. Queste le parole del Procuratore della Repubblica di Firenze, Giuseppe Creazzo. Per continuare a indagare e chiarire non solo sulle stragi, ma su tutto quello che può turbare la pacifica convivenza, non si può rinunciare alla concreta, vera autonomia e indipendenza. Cinque le vittime della strage dei Giorgofili. I coniugi Fabrizio Nencioni e Angela Fiume, con le loro figlie Nadia e Caterina, e lo studente Dario Capolicchio.